Questa mattina il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, ha firmato un'ordinanza alla luce degli ultimi incendi che si sono susseguiti sul suolo del Parco Nazionale del Vesuvio. Eventi che spesso si ripetono nel periodo estivo. Per questo motivo, dal 31 luglio al 30 settembre, è severamente vietato compiere azioni che possano arrecare pericolo di incendio nelle zone a meno di 200 metri da aree boscate o con presenza di folta vegetazione. È vietato accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui vegetali. Più controlli e multe salate per tutti i trasgressori delle regole. Si tratta di sanzioni che vanno dai 1000 euro ai 10.000. Un'ordinanza che chiama tutta la cittadinanza alla collaborazione affinché non si ripetano più questi episodi. Ogni inizio d'incendio potrà essere segnalato al numero unico europeo delle emergenze, il 112.